Frittata di zucchine crude con salmone affumicato, fila delfia e rucola. Crattugio le zucchine in un canovaccio, poi le strizzo bene, tagliuzzo la rucola con le forbici, rompo le uova in un contenitore, metto le zucchine crude, il sale, mescolo tutto, poi filo d'olio in padella, aggiungo il composto di uova e zucchine e faccio cuocere 6-7 minuti, poi giro e faccio cuocere un altro paio di minuti. Una volta cotta, la trasferisco su carta assorbente ed una volta raffreddata, spalmo il formaggio lungo tutta la superficie, metto la rucola su metà della frittata, il salmone affumicato sempre solo su metà, ancora rucola, chiudo ed eccola qui. Buon appetito!